Ciao, siamo Graziana Saccente e Maria Alba e siamo al Sardinia Film Festival. È davvero un piacere essere qui a Villanova Monteleone per queste tre giornate dedicate al cinema documentario. Presentiamo il nostro film documentario che si chiama Chora. Maria, che ne pensi di questo documentario? Dici qualcosa. Chora è un documentario che parla, è una storia al Bresch e racconta proprio la storia di Anastasia Maccarrone che parte da Bologna e arriva fino a San Nicola dell'Alto, una delle tre comunità al Bresch della zona del Crotonese, in provincia di Crotone, ed è un documentario prodotto da Stefano Benni che ringraziamo e salutiamo. Graziana, ma tu invece cosa ne pensi del Sardinia Film Festival? In realtà è un bellissimo festival, itinerante, la gente è veramente cordiale, ci stiamo integrando tanto con tutta la crew e con gli altri registi, è un'occasione anche per confrontarsi, per scoprire anche il lavoro di altri registi che fanno documentari in Italia, giovani autori e ringraziamo appunto tutto il team per averci dato questa possibilità e speriamo, incrociamo le dita.